Affonda petroliera, rischi per ambiente, ansa, Pechino, 14 gennaio dopo i giorni alla deriva e in fiamme la petroliera iraniana Sankhi. Che il 6 gennaio si scontrata con il mercantile CF Crystal a 160 miglia da Shanghai. Affondata nel mar cinese orientale. Si teme ora un disastro ambientale a causa delle 136.000 tonnellate di condensato ultraleggero che era diretto in Corea del Sud. L'ultimo bollettino fornito dai media cinesi ipotizza che circa la mette del carico sia ancora stivato nella nave, materiale che potrebbe alimentare l'incendio per un'altra settimana. Un epilogo a lungo prospettato e maturato a stretto giro dalla comunicazione iraniana dell'assenza. Disperanze per i 29 marinai ufficialmente dispersi. Recuperati invece i corpi degli altri tre componenti dell'equipaggio della nave. Controllata dalla Brita Shipping, società di Hong Kong, per conto della statale National Iranian Tanker.